Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 111esimo episodio del podcast di Marcos Box. Sigla! Lo so, lo so, ho fatto passare 10 giorni dall'ultima puntata, ma come avete avuto modo di vedere non ci sono state grandi notizie, grandi rilasci in queste settimane, quindi sono andato un po' sciagra sciagra con il blog. Ma comunque, apriamo questa puntata con un grande rilascio, uno dei pochi grandi rilasci che ci sono stati in queste settimane. Sto parlando del rilascio di Fedora 35, che è disponibile a Dogod da una decina di giorni, perché è stato rilasciato giorno 2 novembre, oggi è il 13 novembre mentre sto registrando questa puntata. La grande novità di questa nuova versione di Fedora risiede nell'arrivo di Gnome 41, che adesso è il desktop environment predefinito di Fedora 35. Questa nuova versione di Gnome va a introdurre miglioramenti nella gestione dell'alimentazione nell'interfaccia utente, ma anche miglioramenti in Gnome software per semplificare la navigazione e la scoperta di nuove applicazioni, e introduce anche Connection, che è un nuovo client per desktop remote basato su VNC e RDP. Altre novità di questa nuova versione riguardano l'arrivo di una nuova edizione di Fedora, Fedora Kinoite, che è una spin di Fedora che offre KDE plasma basato sulla tecnologia RPM OS 3. Come Fedora Silver Blue Kinoite fornisce aggiornamenti atomici e un sistema operativo immutabile per dare così una maggiore affidabilità. Ovviamente non mancano i consueti riasci delle varie spin di Fedora con desktop environment alternativi, e insomma, fatemi sapere voi se l'avete provata questa nuova versione di Fedora, cosa ne pensate, se l'avete trovata, l'avete trovata, la trovate anzi, stabile al punto giusto. Per l'utilizzo, diciamo così, quotidiano. Restando sempre in tema di rilasci, passiamo adesso a parlare di LXQT, che dopo ben 8 anni di sviluppo, vede finalmente arrivare la prima versione stabile. Conoscete LXQT, è un desktop environment nato dalla collaborazione tra i team di LXDE, Razor QT e MAUI, il cui scopo è quello di offrire un ambiente desktop leggero e potente, scritto utilizzando LXQT. LXQT 1.0.0 utilizza come base LXQT 5.15, che praticamente è l'ultima versione LTS dell'LXQT 5, e oltre a, diciamo così, a offrire le consueti correzioni di bug e workaround, va anche a migliorare un po' le applicazioni che fanno parte di LXQT. Quindi sono state aggiunte diverse funzionalità al file manager di LXQT, ci sono stati miglioramenti nella gestione delle immagini, la modalità non disturbare è stata aggiunta a LXQT Desktop Notification, ci sono stati fatti anche dei miglioramenti a LXQT Panel, insomma hanno fatto tanti miglioramenti che contribuiscono a rendere sempre più completa questo desktop environment leggero basato su LXQT. Voi se le utilizzate fatemi sapere che cosa ne pensate. Lo sapete che ogni tanto cerco applicazioni nuove da provare e ve le segnalo sulle pagine di Marcosbox. Qualche giorno fa ho provato un'applicazione che finalmente va a columare uno dei più grandi problemi all'interno delle applicazioni che fanno parte dell'universo di KDE. Se, come me, siete utenti KDE che fanno largo uso dello scanner per scansionare file e che poi volete salvare nel formato PDF, da sempre vi siete scontrati con ScanLite che non ha la possibilità di esportare, di salvare i file scansionati nel formato PDF e quindi vi siete rivolti a soluzioni alternative come Simple Scan, che è praticamente un coltellino svizzero delle applicazioni per lo scanner, o altre applicazioni, però applicazioni sempre scritte, sfruttando le GTK. Fortunatamente adesso le cose sono cambiate. Perché? Perché c'è una nuova applicazione che è stabile, offre diverse funzionalità e offre appunto la possibilità di salvare i documenti scansionati nel formato PDF. Questa applicazione si chiama ScanPage. Su Marcosbox vi spiego come installare e vi faccio vedere anche un po', diciamo così, le funzionalità principali. ScanPage, in grado di scansionare dagli scanner piani e ADF, è possibile anche fare una specie di, cioè un editing sommare, quindi riordinare, ruotare, eliminare delle pagine scansionate ed è possibile salvare nel formato PDF, oltre ai classici file di immagine ovviamente. ScanPage è entrata a far parte di KDE Gear 21.08 e quindi è possibile installare dai repository delle principali distribuzioni GNU Linux. Se ad esempio siete su KDE Neon vi basterà dare il comando su WT Install ScanPage. È un'applicazione che finalmente mi fa disinstallare Simple Scan e faccio ciò ciò con la manina finalmente dopo tanti anni a Simple Scan e faccio ciò ciò con la manina con un gestaccio a ScanRite. Io non ho capito perché i sviluppatori di ScanRite non hanno mai voluto integrare la funzionalità di salvataggio nel formato PDF. Cioè non lo so, che cosa, ma lo utilizzate lo scanner? Cioè voi che lo sviluppate questa applicazione, utilizzate lo scanner o lo avete fatto così giusto per tempo perso? Non lo so. Fra i derivati di Ubuntu più interessanti degli ultimi anni c'è senza ombra di dubbio PopOS. Per le poche persone di voi all'ascolto che non conoscesse questa distribuzione, PopOS è una distribuzione basata su Ubuntu che System76 sviluppa per i propri computer. System76 è un produttore di computer statunitense che vende computer 100% Linux compatibili, che vende con Linux preinstallato e che negli ultimi anni ha iniziato a sviluppare una sua distribuzione Linux chiamata per appunto PopOS. PopOS è comunque liberamente scaricabile da chiunque ed è possibile utilizzare tranquillamente su un qualsiasi computer. Fra l'altro vengono rilasciate anche due ISO, una dedicata a chi ha schede video Nvidia e una dedicata a chi ha schede Intel o AMD. E offre anche i driver preinstallati per quanto riguarda le schede video Nvidia con alcune serie di ottimizzazioni che la rendono particolarmente impedibili per gli utenti che utilizzano i driver proprietari Nvidia. PopOS è basata su Ubuntu e di conseguenza utilizza GNOME come desktop environment predefinito. Però nelle ultime edizioni, negli ultimi anni, è iniziato a sviluppare una interfaccia personalizzata chiamata Cosmic, che altro non è che una serie di estensioni per GNOME Shell che vanno a personalizzare, anzi a stravolgere l'interfaccia utente di GNOME Shell, che è quella tradizionale, dando agli utenti maggior controllo, dando una interfaccia utente che è possibile utilizzare in maniera rapida sia da mouse e tastiera, cioè sia per gli utenti amanti del punto e clicca, ma anche per tutti quanti quegli utenti amanti delle scorciatoie. offre una serie di funzionalità che non sono presenti su GNOME come il tagging delle finestre, offre gli indicatori abilitati per l'impostazione predefinita, offre la possibilità di avere una dock in basso personalizzabile in 1000 sales, insomma offre una serie di personalizzazioni grazie a questa interfaccia che rendono GNOME usabile anche da utenti che non sono psicopatici, scusate voi utenti di GNOME che utilizzate GNOME Shell pura, io non capisco come fate a utilizzare GNOME Shell pura, secondo me avete qualche problema. Comunque, tornando a serie, c'è stata negli ultimi anni una serie di battibecchi tra il team di GNOME e gli sviluppatori di System76 e con una serie di accuse reciproche di mancata collaborazione, System76 voleva alcune modifiche all'interno dell'interfaccia di GNOME 40 che sono state proposte, però sono state rifiutate da parte del team di GNOME, il team di GNOME dice che in realtà queste proposte non ci sono state in maniera chiara e decisa, insomma, alla fine hanno litigato, hanno bistriggiato queste due community, come accade in questi casi, il punto di rottura c'è stato e adesso il team di System76 ha annunciato di stare lavorando per un proprio desktop environment indipendente scritto, scusate, in Rust e non basato su GNOME. Vedremo nei prossimi mesi quel che il team di System76 riuscirà a tirare fuori, sono curioso come un riccio di poter mettere le mani su questo nuovo ambiente desktop che il team di System76 sta realizzando, conoscendo il team di System76, conoscendo le ottimizzazioni che hanno apportato a PopOS, sono fiducioso nella bontà del risultato finale e speriamo che arrivi presto, che di poterci presto metterci le mani su. Che dire, dal punto di vista delle accuse reciproche, su Marcosbox vi ho postato due link, il primo riguarda una disanima che è stata fatta da uno dei sviluppatori del team di GNOME che fa un elenco delle serie di attriti che ci sono stati con il team di System76, quindi dà il suo punto di vista di utente GNOME. Dall'altra parte vi ho postato anche un articolo di System76 che ha pubblicato subito dopo la polemica che è sorta all'interno della community, nel quale System76 elenca tutti i contributi che System76 ha fatto nel corso degli anni, sia al team di GNOME, quindi con miglioramenti in GNOME, ma anche miglioramenti che sono stati fatti nelle applicazioni, miglioramenti che sono stati fatti nelle GTK, contributi che sono stati dati a Core Boot, OpenFirmware, anche a Fedora, miglioramenti, contributi che sono stati dati per quanto riguarda la community di Rust, contributi che sono stati dati anche a Kernel Linux, insomma il team di System76 si è dato da fare nel corso di questi ultimi anni e sulle pagine del blog trovate maggiori informazioni con tutti i contributi che sono stati apportati. Dal mio punto di vista, a mio avviso, quando ci sono discussioni la verità sta sempre nel mezzo, però in questo caso mi sento di dare di più la colpa a GNOME. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa decisione, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo Dex Open Environment che nascerà e fatemi sapere voi in questa guerra civile tra GNOME e System76 da che parte deciderete di decidere, anzi da che parte state. Cambiamo decisamente l'argomento e parliamo di Steam Deck con due notizie, una cattiva e una buona. Partiamo subito dalla notizia cattiva così ci leviamo il dente. Praticamente Valve ha inviato l'altro giorno una mail ai suoi clienti che avevano effettuato il preordine della Steam Deck, nel quale, dato una bruttissima notizia, ovvero il rilascio della console subirà un ritardo di circa due mesi. Quindi le consegne della Steam Deck per chi ha effettuato il preordine inizieranno a febbraio 2022. Questa sarà la nuova data anche di inizio per la coda di prenotazione. Quindi quelli che intenderanno acquistare la Steam Deck successivamente nella seconda fase lo dovranno fare a partire da febbraio 2022. Il motivo del ritardo è purtroppo la pandemia da Covid-19 che sta dando problemi globalmente a tutti quanti i produttori di dispositivi elettronici perché c'è scassa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le strutture di produzione in tempo e quindi alla fine Valve non riuscirà a rispettare le date di rilancio inizialmente previste. Quindi vi toccherà, a tutti quanti voi che avete preordinato la Steam Deck, vi toccherà aspettare ancora un po'. Ma, come vi dicevo prima, c'è però anche una buona, anzi una buonissima notizia per tutti quanti gli utenti Linux all'ascolto. Nella scorsa giornata c'è stato un live stream pubblicato su YouTube da parte di Valve dedicato allo sviluppo della Steam Deck nella quale si è discusso dell'hardware della console ma anche del nuovo sistema operativo che equipaggerà la console. Se avete seguito lo sviluppo della Steam Deck saprete di sicuro che ci sarà una nuova versione di Steam OS chiamata Steam OS 3.0 che sarà ribasato su Arch Linux e farà l'utilizzo di KDE Plasma con Wireland e altre modifiche fatte dal team di Valve. Bene, la notizia è che, stando alle dichiarazioni dell'ingegnere di Valve verrà rilasciata successivamente al rilascio della Steam Deck quindi successivamente a febbraio 2022 verrà rilasciata la distro, verrà rilasciata Steam OS 3.0 e la distro sarà liberamente scaricabile e installabile da chiunque quindi anche noi utenti PC potremmo scaricarci Steam OS e installarlo sul nostro computer. Sono emersi poi alcuni dettagli sulla distro Steam OS 3.0 utilizzerà un file system root immutabile al fine di impedire l'accesso non autorizzato similmente a quando accade anche sul Fedoro Silver Blue e per la gestione dei flussi audio verrà utilizzato PipeWire e ci sarà il supporto alle applicazioni Flat Pack quindi tante belle notizie dal mondo di Steam OS e non vedo l'ora di metterci le mani. Curiosità di questa live che c'è stata l'altro giorno è che praticamente non c'è stato ancora il rilascio della prima ISO di Steam OS 3.0 e che cosa ha fatto Valve? Valve ha realizzato una guida nella documentazione ufficiale nel quale suggerisce a tutti quanti quegli sviluppatori che non sono in possesso del developer kit di utilizzare per ora come base Manjaro Linux con KDE e quindi che è praticamente quella cosa più simile a quella che sarà Steam OS 3.0 Voi che cosa ne pensate? Siete contenti? La installerete? Fatemi sapere nei commenti. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 111 puntata del podcast di Marcosbox Come sempre vi ricordo di iscrivervi ai canali social di Marcosbox quindi la pagina Facebook, il profilo Twitter, la pagina LinkedIn se volete quella è una pagina personale ma vi invito soprattutto a iscrivervi ai canali su Telegram dove trovate il canale Telegram ufficiale di Marcosbox dove ci sono i link alle varie notizie che trovate pubblicate su Marcosbox quindi lo potete utilizzare al posto dei feed RSS che è comunque presente sul sito Ogni tanto ho posto anche qualcosa che non c'entra con il sito con Marcosbox quindi articoli che non ho tempo di approfondire ma che meritano di essere condivisi Vi ricordo tra sì che esiste un canale una community Telegram su Marcosbox al quale potete iscrivervi una community aperta al confronto dove potete parlare di tutto non solo di Linux e vi ricordo infine che è presente anche un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon di Marcosbox se acquistate utilizzando il mio codice referral o uno dei link che trovate all'interno della pagina delle offerte potete supportare il blog perché sapete bene come funziona il sistema di affiliazione Amazon voi acquistate un prodotto non pagate niente di più però Amazon mi dà una piccola percentuale ricordo ovviamente di iscrivervi al sito c'è il canale, c'è il feed RSS delle notizie c'è anche un canale YouTube di Marcosbox insomma sapete dove trovarmi lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao ciao